Che i furbetti della differenziata e di non raccoglitori di deiezioni canine avessero le ore contate erano ormai nell'aria, lo avevamo percepito monitorando con i responsabili del servizio i centri raccolta della differenziata e seguendo l'estensione dei servizi di raccolta nei vari quartieri della città di Campobasso e dando risalto all'iniziativa del Comune dal titolo forte che annunciava un'azione repressiva a livello amministrativo contro coloro che portano a spasso i cani senza le dovute attenzioni. Ora arrivano ufficialmente gli ispettori ambientali, gli addetti chiamati a monitorare il conferimento dei rifiuti e a sanzionare eventuali violazioni in materia ambientale. Dopo l'approvazione del regolamento per l'istituzione della nuova figura da parte del Consiglio, ora i tre ispettori saranno in azione per disincentivare e punire il fenomeno della migrazione dei rifiuti. Un provvedimento che il Comune di Campobasso ha adottato alla fine di salvaguardare il paesaggio e tutelare l'ambiente naturale dell'intero territorio comunale. L'ispettore ambientale sarà una nuova figura che non sostituisce la Polizia Municipale, cui spetta l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di legge, ma dovrà segnalare al corpo e alle altre forze di Polizia il non rispetto delle norme ambientali e delle ordinanze comunali e sindacali riguardanti direttamente le violazioni nell'ambito dei rifiuti, comprese le deiezioni canine nei spazi pubblici, che costituiscono pregiudizio al decoro urbano. Il compito di questi ispettori sarà il monitoraggio del conferimento dei rifiuti, ma anche dare informazioni utili agli utenti sulla differenziata. L'attività degli ispettori non prevede ritribuzioni, ma solo eventuali rimborsi spese documentati. I tre ispettori sono stati scelti fra i dipendenti del Comune di Campobasso, personale dipendente della SEA, e appartenenti ad associazioni di volontariato riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.